Un orgoglioso Ponsacco deve rendersi al Flaminia, che al madame incastra la seconda vittoria consecutiva grazie ad una prestazione risoluta e al bel gol di Sirbu. La gara è stata combattuta, forse non bellissima, ma tatticamente ben giocata da entrambe le squadre. Il Flaminia parte meglio, all'undicesimo carta e mecca Polizzi con un cross che l'attaccante schiaccia sulla schiena di Direnzone. Il Flaminia continua con i cross, al sedicesimo e sta a fa staccare, ma ancora una volta c'è una deviazione. Poco dopo arriva il gol che sblocca la partita. Traversione di carta contro il cross di Morbidelli e spizzare di Dorian Sirbu, la Flaminia passa in vantaggio. Il Ponsacco si riorganizza e reagisce. Al trentesimo la difesa civitonica si addormenta e Teche si inserisce, ma la mira del bomber non è granché. Insistono gli ospiti che alzano i ritmi, trentaduesimo, gran tiro di Noccioli e Montese è costretto all'intervento in due tempi con reattività. Al quarantesimo ancora pericoloso il Flaminia, Morbidelli e Battistelli lavorano bene a destra, cross al centro dove Sirbu stacca, ma non con precisione. Nel finale le proteste del Ponsacco. I toscani chiedono un rigore per l'atterramento di Lischi, ma l'arbitro Ursini di Pesaro lascia proseguire. Nella ripresa la partita si innervosisce, si vede poco per i primi venti minuti. Al ventunesimo doppia, grande occasione per la Flaminia, ma Lista e Chiellini dicono stoicamente no, prima a Polizia e poi a Sirbu con un salvataggio sulla linea. Al ventiquattresimo risponde il Ponsacco su pala inattiva. Lischi stacca, ma il colpo di testa finisce alto. Entra Ingretolli nei padroni di casa, ma il suo contributo si limita a questo brutto tiro al ventisettesimo, finito lontano dallo specchio. Poco dopo il Ponsacco fallisce clamorosamente la palla del pari. Gibril brucia mezza difesa a destra e mette Teje davanti la porta. L'errore del centravanti del Ponsacco è grave, palla alta. Il Flaminia, passato il pericolo, alza il livello di attenzione e ritrova il pallino del gioco. Nel finale Morbidelli e Hortensi hanno due palle gol fotocopie. Splendide le conclusioni dei due attaccanti con il sinistro, entrambe al volo, entrambe però con poca fortuna. Finisce così 1-0 per il Flaminia, che ha giocato una partita ordinata colpendo al momento giusto e difendendosi con ordine. Bene il Ponsacco, che con il solito esercito di giovani in campo, ha dato battaglia giocandosela fino all'ultimo contro una squadra in grande salute.